Nuove forze per la Polizia Municipale di Arezzo. L'organico aumenta infatti di 9 componenti per un maggior presidio del territorio, della sicurezza urbana e della viabilità. Per dare una risposta maggiore alle esigenze della città e dei cittadini. Si tratta di 3 ufficiali e 6 agenti che hanno vinto gli ultimi concorsi banditi dall'amministrazione comunale per i rispettivi profili, assunti a tempo indeterminato e già in servizio. I nuovi assunti faranno un corso di formazione presso la scuola interregionale affinché ben presto possano scendere sulla strada e operare in maniera sicura. L'organico sale così a 92 componenti effettivi, il comandante, 8 ispettori, 2 commissari ed 81 agenti. Le nostre risposte anche in coordinamento con le altre forze di Polizia, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, è tale che necessita di un aumento del personale. Quindi noi con questi 9 agenti ufficiali possiamo dare una risposta maggiore anche per quanto concerne il venerdì e il sabato sera.